Nessuna sorpresa dell'ultima ora nella consegna delle liste per le eminenti elezioni comunali avvigevano. Il parco dei candidati conferma quanto si è venuto a delineare nelle ultime settimane senza aggiunte o defezioni addirittura d'arrivo. Saranno quindi in sette a contendersi la carica di sindaco sostenuti da 14 liste di candidati al Consiglio Comunale. Già sorteggiato anche l'ordine di comparizione sulla scheda elettorale. La prima coalizione ad apparire sulla scheda sarà quella guidata da Giuseppe Squillaci. Il candidato espressione del centro moderato è sostenuto dalla lista La strada per Vigevano che vede al suo interno anche alcuni appartenenti a Italia Viva e dalla lista di Grande Vigevano guidata dal consigliere comunale uscente Enrico Chiapparoli. Secondo nome sulla scheda sarà quello di Luca Bellanzi candidato sindaco della lista del Polo Laico che ripropone buona parte della sua squadra tradizionale con alcune novità fra cui l'ex consigliere Luca Mazzola come capolista. Poi Furio su Villa sostenuto da due liste. In Vigevano Futura oltre agli stretti collaboratori dell'ex assessore all'urbanistica compaiono anche esponenti di PSI, Partito Liberale, Movimento Diversamente Abili, Orgoglio, Partite IVA e Cambiamo. Alleato è il gruppo civico con una lista di 22 candidati. Quarto candidato sindaco ad apparire sulla scheda sarà Andrea Ceffa sostenuto da quattro liste. In quella della Lega si ripresenta tutta la giunta uscente compreso il sindaco Andrea Sala ad esclusione di Antonietta Moreschi assessore in quota tecnica che del resto non era candidata nemmeno cinque anni fa. A sostegno di Ceffa anche le liste di Forza Italia dove compaiono tutti i big cittadini del partito. Di Fratelli d'Italia con 24 candidati e la Civica Vigevano Riparte. In quinto nome sulla scheda è quello di Silvia Baldina, la consigliera comunale uscente e la candidata sindaco della lista del Movimento 5 Stelle composta da 24 persone. C'è poi Roberto Guarchi, espressione di rifondazione comunista. Il partito propone una propria lista con il tradizionale simbolo della falce e martello. Ultimo nome a comparire sulla scheda elettorale sarà quello del candidato sindaco del centro-sinistra Alessio Bertucci. Per lui ci sono la lista del PD, partito di cui è il segretario cittadino, e due liste civiche, le Api, una lista formata per lo più da giovani e Vigevano Coraggiosa con esponenti del mondo della sinistra e della cultura.